gentili telespettatori buona giornata ho visto adesso un video di 56 secondi di matteo salvini che rientra in albergo dopo aver avuto l'esperienza col sindaco di przemisl se lo leggo bene che gli ha regalato una maglietta con il volto di putin quella che lui ha utile aveva utilizzato simile in russia nei suoi viaggi da fans da cheerleader da ragazzo pompon di putin gli ha regalato sta maglietta gli ha detto io a lei non la ricevo si tenga le regalo la maglietta del suo amico putin vada a vedere cosa sta combinando lui è tornato in albergo una faccia realmente realmente scura ho visto è che salvini voleva andare lì per propaganda politica e gli si è gli è tornato dietro gli è ritornato dietro tutto nel senso che lui andava lì per nella sua mente è ovviamente lui convinto che che andava lì a fare una bella figura l'unico politico che andava poi non si è chiesto come mai l'unico politico che andato lì sarà forse che andare lì a mettersi in mostra sa un po di sciacallaggio sa un po di ipocrisia ecco salvini non è che tu sei l'unico politico andato lì perché agli altri non gliene frega niente andare lì in questo momento sembra tutt'altro sembra tutt'altro perché giorgia meloni letta conte non erano lì a passeggiare in polonia a 15 chilometri dal confine proprio perché andare lì da adito a essere definiti come degli speculatori degli sciacalli delle persone che utilizzano utilizzano questi 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 fatti per un tornaconto personale se voi guardate proprio la definizione di sciacallaggio politico se riuscite a trovarla non è facile dice proprio che il lo sciacallaggio politico e quando si utilizza un un fatto come questo che stiamo assistendo per un tornaconto politico elettorale personale no ecco ha trovato dei giornalisti italiani che gliene hanno detti di tutti i colori gridandogli dietro il sindaco gli ha detto non ti ricevo tieniti la maglietta e vai a vedere cosa succede lui ha girato le spalle se ne è andato e c'è rimasto nel video che tutti potete vedere c'è rimasto malissimo poi torna in albergo e naturalmente risponde indirettamente al sindaco che gli ha regalato la t-shirt e risponde a renzi perché subito è andato a vedere i giornali italiani intanto lui magari si immaginava che la sua visita in polonia fosse su tutti i giornali nelle prime pagine salvini il capitano lì che sfida le nuvole e invece i giornali hanno quasi completamente snobbato la sua missione di pace non lo so come volete chiamarla nessuno ne ha parlato qualche giornale l'ha messo nei trafiletti nei titoli di coda lui si immaginava uno scalpore però non sono più i tempi di quando salvini ogni cosa diceva faceva i titoloni non sono più neanche i tempi che quando si faceva un video su salvini lo guardavano i video di salvini tre anni fa nel 2019 erano erano i più visti quando dice salvini ha detto beh tutti a vedere il video di salvini che ha detto beh salvini è asceso le asceso salvini è salito al primo piano tutti a guardare salvini oggi oggi va di più un video su bassetti va di più un video su giorgia meloni che su salvini ad esempio proprio tre anni fa vi faccio l'esempio un video di salvini lo guardavano 15 mila persone un video di giorgia meloni 2000 oggi è il contrario un video di giorgia meloni lo vedono in 30 mila quello di salvini anche se interessante lo vedono in 3 4 mila è cambiata diametralmente la percezione degli italiani verso questo politico che si sta renzizzando sta diventando come renzi cosa dice salvini al sindaco che gli ha regalato la t-shirt fa questo video ma si vede comunque un salvini molto abbattuto ma non per quello che ha visto per quello lui è andato lì per propaganda e si è trovato una pubblicità negativa che è rimbalzata su tutto su tutti i giornali del mondo su tutti i giornali del mondo e dice beh io vengo qua per delle motivazioni alte per delle cose incredibili eccetera eccetera e trovo anche dei sindaci maleducati è stato un po maleducato e salvini guarda in questa situazione particolare il sindaco ha detto non ti ricevo ha tirato fuori la maglietta qui non si non si tratta di educazione o maleducazione il sindaco era in mimetica quindi ti faccio capire salvini in che stato d'animo vive il sindaco in polonia se va se sta in comune con la mimetica un po maleducato ti ha messo di fronte alle tue responsabilità nel senso che se tu sei un un ragazzo pompon di putin ma evita di fare questi viaggi servizi segreti ti hanno detto non andare i servizi segreti italiani ti hanno detto non andare tu sei andato lo stesso perché dovevi sfruttare il momento per propaganda politica e ti sei beccato questa figuraccia che è ripresa da tutti i giornali del mondo in tutte le lingue provato a cercare ho provato a fare una ricerca c'è in spagnolo in polacco di dappertutto dappertutto e questo hai fatto fare anche una figuraccia all'italia in generale perché vengono veniamo accomunati alle tue idee o ex idee c'è italiani amici di ecco io non voglio essere accomunato a questa a questa idea pertanto e lui poi guardando i giornali dice le polemiche in Italia di Renzi Renzi gli ha detto praticamente che è un pagliaccio dicendo che sta facendo pagliacciate le pagliacciate chi le fa i pagliacci quindi Renzi gli dà del pagliaccio adesso un po i giornali si stanno svegliando all'inizio hanno deciso di di ignorare Salvini anche nella figuraccia proprio non considerarlo che è la cosa peggiore quando non consideri una persona no o se ti arrabbi con una persona ha un effetto ma se la completamente la ignori è ancora peggio no l'indifferenza è peggio di una litigata i giornali avevano deciso di ignorarlo però qualcuno non sta non sta resistendo a commentare questo fatto pertanto stanno cominciando a uscire sui giornali articoli proprio che parlano di questa figuraccia ma lui ha trovato solo Renzi che ha commentato diceva Renzi fa polemiche in Italia i toni il sindaco un po maleducato e Salvini il sindaco un po maleducato insomma arrivederci a tutti e grazie